Sì! 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 Ho fatto il cambio videocamera e ho fatto l'oro. Ho cambiato la videocamera, quando la cambio si sente l'oro, si sente l'oro, si sente l'oro, la camera non si sente l'oro. Bellissimo! Sì! Siamo ancora qui, si anima a stare! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.